Pasqua 2016 Taranto con i suoi riti la sua storia le sue tradizioni la sua cultura i suoi tesori e i suoi eventi i riti della notte tra il giovedì e il venerdì santo allorquando l'addolorata esce dal pendio di san domenico in città vecchia il suo dolore e la sua sofferenza rivivono nell'animo dei presenti in una cornice suggestiva e ricca di pathos e il mistero che diventa fede e la tradizione che diventa partecipazione nel tardo poveriggio del venerdì santo esce dalla chiesa del carmine la processione dei misteri 11 elementi tra simboli e gruppi linei raffiguranti episodi della passione di gesù portati appunto in processione dai perdoni non solo riti ma tanto altro ancora misterium festival dal 9 al 27 marzo fede arte storia tradizione cultura cinema mostre musica convegni installazioni artistiche e no gastronomia percorsi artistici teatro e ancora itinerari ed eventi culturali tra aree archeologiche monumenti ipogei e musei della città vecchia di taranto dal 12 marzo al 7 aprile marzo messe della cultura una molteplicità di eventi a partire dall 8 marzo fino a pasqua ed oltre che vede coinvolti anche l'intera rete dei musei cittadini associazioni e club service le confraternite le scuole un'offerta culturale concentrata nel messe particolarmente intensa che vuole dare il segno in un impeto di crescita della città in direzione della cultura orgogliosi di mostrare taranto nel mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti